Boom di visitatori alle grotte di Passena e di Collepardo che, nel solo un mese di agosto, hanno registrato oltre 13.000 presenze, un record. Rispetto allo stesso mese del 2019, le grotte di Passena vedono una crescita di pubblico del 18% con oltre 8.000 visitatori, mentre le grotte di Collepardo e il Pozzo d'Antullo, con circa 5.000 visitatori, hanno registrato un più 90%. Riaperte 3 luglio, dopo 4 mesi di chiusura a causa del Covid-19, in tanti sono andati alla scoperta di due suggestivi siti speleologi in provincia di Frosinone, per un incremento complessivo di presenze del 34%, numeri importanti che confermano il segno positivo della gestione regionale delle grotte, partita nel 2018, in seguito ad un accordo sottoscritto tra la regione, il Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, e comuni di Passena e di Collepardo. Da quella data, spiegano dalla Pisana, la regione Lazio si è fatta carico delle attività di conservazione e valorizzazione dei siti, affidandone la gestione alla società regionale in aus Lazio Crea, in collaborazione con le amministrazioni locali. Una conduzione vincente che, oltre ad aver portato la stabilizzazione del personale, ha avviato un lavoro di tutela e rilancio dei due siti speleologi, anche attraverso un ricco cartellone di eventi. Le grotte di Passena e di Collepardo non sono solo un importante geosito in cui è possibile ammirare fenomeni carsici unici nel loro genere, ma sono anche aree di tutela di specie protetta, come i pivistrelli. La visita nelle grotte, dunque, rappresenta un'occasione per comprendere e rispettare tutto l'affascinante e composito patrimonio naturale del Lazio.